Quasi 400 milioni di euro per tre interventi previsti dalla regione Campania per il territorio salernitano nell'ambito dei fondi del Patto per il Sud. Il governatore Vincenzo De Luca ha illustrato questa mattina nella Sala Pasolini i progetti infrastrutturali per il capoluogo e la provincia. Al primo posto l'elettrificazione sulla linea ferroviaria Salerno-Avellino-Benevento per migliorare il collegamento tra aree interne e costiere e l'allungamento della metropolitana dalla zona Rechi all'aeroporto Costa d'Amalfi. Infine il collegamento fino al campus di Fisciano per implementare la mobilità degli studenti da e per l'università. Per quanto riguarda Napoli il governatore non ha lesinato stilettate a De Magistris sul caso ANM. È un caso unico in Italia che un'azienda di trasporto municipale non vede l'investimento di un euro da parte del comune. La regione è pronta a fare la propria parte ha sottolineato De Luca ma servono risorse del municipio di Napoli. Con una certezza non ci sono favoritismi tra territori perché lo sforzo della regione riguarda tutte le province. Stiamo continuando ad aprire a Napoli un cantiere al mese sulla linea circunfesuviana e a lavorare per completare linea 1 e linea 6. Noi parliamo lo stesso linguaggio in tutti i territori della regione, abbiamo detto che Napoli è una priorità perché dobbiamo rilanciare la città di Napoli, è una grande capitale d'Europa del mondo che si deve svegliare. Non ha mai avuto Napoli tante risorse come in questo momento. Contestualmente noi stiamo lavorando per valorizzare tutti i territori della regione per evitare una congestione della fascia costiera e dunque abbiamo previsto investimenti davvero rilevantissimi che non si sono mai visti in Irpinia, nel Beneventano, nell'area Salernitana, nel Casertano. Grazie. 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 Grazie.